Saranno circa 8.000 provenienti da circa 60 paesi domani mattina a partire da Gaiola Inchianti per la 23esima edizione dell'Eroica, Kermes che dà appuntamento la prima domenica di ottobre a collezionisti e appassionati di ciclismo provenienti da tutto il mondo. Quota 8.000 è il nuovo record di partecipazioni a quella che non può essere definita soltanto una corsa ma una vera e propria opzione di vita, metafora di un mondo vero e pulito come scritto nel sito ufficiale della manifestazione. L'Eroica si legge oggi è un movimento capace di attrarre migliaia di ciclisti e appassionati in tutto il mondo. Guardiamo al passato per ispirare un nuovo futuro del ciclismo e dello sport riscoprendo la bellezza della fatica e il gusto dell'impresa. Parole senz'altro ispirate dall'inventore dell'Eroica Giancarlo Brocci che è riuscito a unire la sua passione per il ciclismo con l'amore per la propria terra, il Chianti e le terre senesi. Un fiume di ciclisti dunque domani partendo da Gaiole in Chianti, i più temerari anche alle 4.30 del mattino, si dividerà presto nei cinque percorsi messi a disposizione per offrire le cartoline più belle della provincia di Siena dal Chianti alla Val d'Orcia. A Gaiole sono già montati i banchetti con le maglie, i pezzi di ricambio, le biciclette eroiche, libri, le foto del ciclismo senza tempo, veri e propri piccoli tesori frutto della passione di tanti collezionisti in arrivo da tutto il mondo.